I popolari di Precachezzo hanno proposto in Consiglio Comunale un atto di indirizzo che è poi stato approvato dall'Aula sul turismo. Che cosa ha premuto l'indirizzo? Esatto, abbiamo proposto e poi abbiamo avuto la fortuna di far approvare all'unanimità questo atto di indirizzo. La proposta forte di quest'atto è quella dell'elaborazione di concerto con tutte le forze produttive del territorio retino di un marchio, di un brand turistico che poi possa essere speso in funzione promozionale proprio sia per Arezzo come città sia per i prodotti tipici dell'aretino, sia a livello di fiere anche di rappresentazioni locali o comunque italiane sia magari stand all'estero nel caso si presentasse l'opportunità di utilizzarlo. La riconoscibilità della nostra città e delle sue eccellenze è appunto un po' quello che noi ci proponiamo. Dalla chiusura sostanzialmente dell'APT non rimane più una strategia, un progetto unitario di promozione del turismo, si muove in maniera molto caotica. Riscoprire la centralità anche in qualche modo di guida da parte dell'amministrazione retina potrebbe essere un volano per tentare di intraprendere questa nuova opportunità economica soprattutto in un momento in cui le acque non sono così felici. Il Comune e l'amministrazione Fanfare dove a coinvolgere quindi anche le categorie economiche? Esatto, il ruolo del Comune è esattamente questo, quello di farsi promotore visto che appunto nelle sue competenze non rientra specificamente questa della promozione turistica.